Mugano Odori Kitamura Saiyo, 1900-1967 Veggente giapponese fondatrice dell'Odoru Shukyo, religione della danza Dopo un periodo di grave depressione, Kitamura riceve più volte, probabilmente per via medianica, Tobio, una divinità scintuista che la esorta a eseguire una danza estatica per la salvezza del mondo. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Tobio comanda a Kitamura di recitare cento volte al giorno la formula Namiorengekyo, pronunciata da alcuni gruppi anche in Italia, e le rivela che il dio dei cristiani, la divinità suprema dei buddhisti e l'eccelso Tensho Kotai Jingu, sono un'unica entità. Dopo lo scoppio della bomba atomica su Hiroshima, Kitamura inizia l'attività di predicatrice, vagando a piedi o in bicicletta per il Giappone, e raccogliendo numerosi seguaci dai quali rifiuta qualsiasi offerta. La mistica anima preghiere collettive in cui esegue il Muga No Odori, danza del non io, durante la quale molti dei partecipanti cadono in trance. Commento I mistici che esprimono l'apice della condizione umana dimostrano l'abbattimento dell'io in ogni tempo e paese. Grazie Grazie a tutti